CNC Partnership Global è lieti ad annunciare il lancio del programma di certificazione per i professionisti della gestione del cambiamento in modalità virtuale. Si tratta di un corso della durata di tre giorni che si svolgerà online, ovvero sia in modalità virtuale. Tramite l'ausilio di Zoom avrete la possibilità di acquisire le competenze e le conoscenze legate all'utilizzo della metodologia ProSci, una delle metodologie leader di gestione del cambiamento a livello mondiale. Vi chiederete ma qual è la differenza tra questo corso virtuale ed il corso di persona? Fondamentalmente l'unica differenza è data dal mezzo che verrà utilizzato per l'erogazione del corso. Infatti avrete la possibilità dalla comunità di casa vostra di poter acquisire durante questi tre giorni le competenze necessarie per gestire il cambiamento con successo. Grazie all'ausilio di un istruttore certificato ProSci avrete la possibilità non solo di utilizzare la metodologia ProSci per un progetto al quale state lavorando, ma anche avrete l'accesso alle best practices, ovvero sia ad una ricerca di oltre 20 anni su quelle che sono le migliori pratiche nella gestione del cambiamento organizzativo. Avrete inoltre la possibilità di accedere al portale ProSci per la durata di 12 mesi e la possibilità di fare networking con altri professionisti della gestione del cambiamento. E ovviamente al termine dei tre giorni, dopo il superamento dell'esame, otterrete la certificazione ProSci. Per ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo qua sotto. Vi aspettiamo!